Chi sei? Tommaso. Come ci fai qua? Allora, adesso ci mettiamo l'imbrago, qua c'è scritto Danger e significa buon divertimento. Che bello! Ok, l'abbiamo quasi messo. Lei? Io inizio i festeggiamenti del mio cumpleaños e la diciamo. Tenta la testa. Vieni qua. Ok. 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 ahahahah grazie a tutti 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 grazie a tutti